Presidente Lupi, scoprire per promuovere un programma che riguarda un po' tutto il territorio? Direi che è un programma trasfrontaliero molto interessante perché permette attraverso quest'azione molto forte che hanno in commercio, investe 93 mila euro, è capofile di questo progetto molto largo a livello dei territori per, ripeto, scoprire località ma siti e realtà paesagistiche, architettoniche, artistiche che fanno poi da motore di incamini di tipo turistico. Credo che sia molto interessante, innovativo perché va alla ricerca di quelle nicchie di territorio che magari sono misconosciute o non ancora così amplificate. Enrico Fassone ci spiega quali sono i contenuti di questo progetto. Buongiorno, il seminario tecnico, l'incontro tecnico con gli operatori che hanno partecipato al progetto ha questo obiettivo, mettere in evidenza come gli strumenti di marketing territoriale possono valorizzare non solo il territorio ma anche creare importanti sinergie con gli operatori locali per poter essere sfruttati. Si parte, e valorizzati, oltre che sfruttati, si parte un po' da questo principio. Il marketing oggi come oggi non sono solamente strategie da applicare ai prodotti e ai servizi, tra virgolette, per creare brande ma possono essere applicati anche in un contesto territoriale andando a valorizzare, a mettere in evidenza quei dettagli, quei valori che un territorio ha, che possono essere definiti con delle strategie ad hoc, a maggior ragione anche promuovendo o comunque mettendo in evidenza le nuove tecnologie, che è l'appannaggio non solo oggi come oggi delle grandi aziende ma soprattutto anche delle piccole e medie imprese che rappresentano dei valori per questi territori. Quindi l'incontro ha l'obiettivo principale di favorire o comunque di far capire a questi operatori come sfruttare anche da parte loro questi nuovi strumenti che sono stati promossi, diciamo, su cui l'ente pubblico in generale, Cammare di Commercio e Regione di Uria, hanno investito molto.